Bentornati amici di MyFootballGersy. Facciamo un piccolo passo indietro nel tempo e vediamo quella che è la maglia speciale del Milan per il 120esimo anniversario. Grazie a tutti! La maglia è molto bella, ovviamente rosso e nera come la tradizione, stupendo la colorazione in oro e i tanti riferimenti che ci sono nella maglia. Il costo lo vedete qui sopra, fantastico anche quello. Se volete maggiori dettagli tutti i riferimenti sono qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché, oltre a questa fantastica maglia speciale, ce ne sono tantissime altre che vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete le misure. Prima però, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!